Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come collegare i ricevitori iBus al Flight Controller Betaflight F3. In questo video userò un FSIA6B, ma il procedimento è uguale per tutti i ricevitori Flysky che supportano il protocollo iBus. La prima cosa da fare è collegare un cavo servo in una porta UART del Flight Controller, useremo questa che è dedicata ai ricevitori, si tratta della porta UART2. Dopo aver prestagnato il Flight Controller siamo pronti per saldare. Colleghiamo il cavo segnale in alto, il positivo al centro e la terra in basso. Siccome i ricevitori Flysky funzionano a 5V ricordiamoci di ponticellare i primi due pad di questa serie per confermare al Flight Controller di fornire 5V in uscita. Adesso colleghiamo il cavo servo al ricevitore ricordandoci di tenere la terra in basso, il positivo al centro e il cavo segnale in alto. Colleghiamo anche il cavo USB per configurare il ricevitore su Betaflight. Clicchiamo su connetti, poi andiamo in Port. Visto che abbiamo collegato il ricevitore nella porta UART2 attiviamo SerialRx nella porta UART2. Quindi clicchiamo Save e Reboot. Adesso andiamo in configurazione e scorriamo verso il basso fino a trovare il receiver. Poi in questo menu a tendina scegliamo SerialBasedReceiver. Nel menu sotto scegliamo i bus perchè come sappiamo il nostro ricevitore usa questo protocollo. Ora che è tutto configurato clicchiamo Save e Reboot. Per concludere colleghiamo una batteria lipo al Flight Controller per alimentare il ricevitore e verificare che il radiocomando comunica in maniera corretta. Andiamo nel tab Recevitore, muoviamo gli stick e come vedete il radiocomando risponde alla perfezione. Proviamo le switch. Perfetto, è tutto a posto. Questo era il mio tutorial su come collegare i ricevitori iBus al Flight Controller Betaflight F3. Grazie per aver visto il video non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video. Grazie per aver guardato il video.